Il primo manifesto se lo procurò diciottenne nel 1895, allungando sotto banco una lira all'attacchino comunale. Raccontano che ad intrigare il giovane Ferdinando Salce era stata soprattutto la procace figliola svestita, un topless che oggi sarebbe giudicato assai casto, ritratta in questa pubblicità della società anonima incandescenza a gas Brevetto Auer, ad opera di Giovanni Maria Mataloni. Al di là dell'aneddoto piccante, quel primo acquisto dette il via ad una collezione con pochi uguali per quantità e qualità in tutta Europa. Lungo il corso dell'intera vita, morì nel 1962 il ragionier Nando, titolare di un'avviata ditta di commercio, mise insieme migliaia di affiche dalla fine del XIX secolo alla seconda metà del XX, intrattenendo rapporti con altri collezionisti e con artisti in tutto il mondo. Lui stesso era convinto di possedere circa 15.000 pezzi, catalogati dopo la sua scomparsa, risultarono ben 24.580. Fino ad oggi visibile solo in mostre saltuarie o in eventi speciali, finalmente questa straordinaria raccolta trova ora una sua sede espositiva permanente nel restaurato palazzo annesso alla chiesa di San Gaetano a Treviso. Ad inaugurare il nuovo Museo Nazionale Salce è stato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Troppi e troppo delicati, la carta industriale con cui sono fatti è ancora più fragile di quella dei libri, i manifesti non possono essere mostrati tutti contemporaneamente. Il Museo ne esporrà una parte in rassegne di tre o quattro mesi a rotazione senza soluzione di continuità per tutto l'anno. Per il debutto si è scelta una sorta di ciclo antologico intitolato illustri persuasioni i capolavori pubblicitari della collezione Salce e non si poteva che cominciare dal 27 maggio al 24 settembre prossimi con la Bella Epoque, l'età dell'oro della cartellonistica. In questo primo appuntamento si vedranno i manifesti tipicamente Bella Epoque, quelli di Cheret che è stato l'ideatore del manifesto illustrato, ma anche quelli del giovane Cappiello che da Livorno va a Parigi e spopola perché è in grado immediatamente di rivoluzionare il mondo della grafica pubblicitaria, ma si vedranno anche per esempio i capolavori della secessione viennese e si vedranno invece anche quei manifesti degli autori italiani che pur ancora in qualche misura incerti tra quello che era il linguaggio accademico e quelle che erano le novità linguistiche degli aplaclomatici e degli arabeschi del Liberty in realtà sanno creare dei capolavori straordinari di comunicazione. Le mostre successive riguarderanno i manifesti del periodo tra le due guerre e infine dal secondo dopoguerra al 1962. Per la ristrutturazione del complesso di San Gaetano, l'antica chiesa templare potrà ospitare conferenze e convegni, sono stati investiti poco più di due milioni di euro, ma il progetto Salce prevede un secondo tassello, il recupero della chiesa di Santa Margherita, come ricorda Ugo Soragni, direttore della direzione musei del Ministero dei beni culturali. è già stato avviato da tempo e che è pressoché interamente già finanziato. Stiamo parlando della chiesa di Santa Margherita, anch'essa data in consegna al nostro Ministero dell'Agenzia del Demanio, dove noi abbiamo immaginato di poter realizzare la casa della collezione, quindi lo spazio dove la collezione forte dei suoi oltre 25 mila manifesti sarà conservata e nella quale troveranno spazio l'archivio, la biblioteca, laboratori di restauro, laboratori fotografici e dove potranno essere anche allestite ulteriori manifestazioni. Terminati i lavori di consolidamento dell'edificio, a breve partirà l'allestimento, tempi previsti fine 2018, investimento complessivo quasi 6 milioni di euro stanziati da Stato e Regione. Altre istituzioni hanno raccolte più numerose, il Museo di Parigi ad esempio conta 100.000 affisce, ma il Museo Trevigiano è l'unico a poter vantare un archivio digitalizzato e consultabile online. La collezione si presta ad innumerevoli collegamenti dalla storia del design a quella della comunicazione, del costume e dei vari prodotti industriali raffigurati. Alcune imprese hanno contribuito tramite l'art bonus e sponsorizzazioni ed è già stata avviata la collaborazione con un'industria treviso, ribadisce la Presidente Maria Cristina Piovesana. Le imprese trevigiane hanno sempre creduto nella collezione salce, sapete che in Palazzo Giacomelli abbiamo fatto ben quattro esposizioni e nel momento in cui è nata la possibilità di avere un museo che valorizzasse questa miniera, noi la riteniamo sia una miniera, siamo stati ben felici di parteciparvi. Insomma, un nuovo gioiello nell'offerta museale Veneta. Una particularità importantissima, ma vorrei dire ha una rilevanza appunto nazionale, è un museo nazionale e diventa un punto di riferimento per tutta l'Italia. Anche se in futuro il salce potrebbe aspirare al rango dei nuovi grandi musei nazionali come gli Uffizi, Brera o le Gallerie dell'Accademia, ma soprattutto rappresenta un patrimonio che ora Treviso e l'Italia hanno il compito di far fruttare.